Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo commento a caldo delle partite dell'Inter Ragazzi però che dire, prima di lasciarvi il mio commento come sempre Vi invito a lasciarvi un commento, un like, condividere con gli amici, attivare la campanellina Così vi arrivano video in tempo reale che arriveranno anche video sul campo nei prossimi giorni Quindi ragazzi, niente Abbiamo parigiato 2-2, è un pareggio che per noi sta da sconfitta Perché siamo l'Inter, perché siamo una società abituata, nel senso buono, a vincere E quando si pareggia per noi è una sconfitta Che da un punto di vista è giusto così, è giusto pensarla così Perché significa che sia margine di crescita, non ci si accontenta mai Purtroppo però questo pareggio arriva in un momento brutto Perché dopo aver vinto, cioè in un momento buono nostro Perché abbiamo vinto contro la capolista e il Napoli Pareggiamo una partita, ci pareggiano una partita all'ultimo Quando, sì, è vero, abbiamo giocato il primo tempo bene Dal mio punto di vista qualche errore dell'arbitro c'è stato Tipo il VAR, tipo il gol anche di Acerbi, no? Che segna di testa Però gli danno fallo dietro a un giocatore del Monza Che era caduto, Pablo Mari se non sbaglio Che era inciampato su un suo compagno Il rigore di Danfis quando fa lo scavetto E la tocca di mano Poi vabbè, l'attitudine dei ragazzi dal mio punto di vista Non li si può rincriminare niente Magari, sì C'è stato La partita alla fine dei conti, ragazzi È stata una partita di lotta È stata una partita dura Che la potete tranquillamente portare a casa C'è stato quell'autogol di Dumfries all'ultimo Anche è vero, loro hanno attaccato, hanno attaccato Ma a parte quell'occasione lì Non è che abbiano avuto tantissime altre occasioni Anche durante tutta la partita o tutto il secondo tempo Io dal mio punto di vista ti dico anche che Avremmo forse potuto fare qualcosa in più noi Dovevamo magari fare qualcosa in più noi Visto la vittoria contro il Napoli Comunque ha fatto i cambi che doveva fare Non vedo comunque una prestazione negativa Perché se non è per quel tocco di testa di Dumfries Che sbaglia e allo suo tempo nella stessa azione Sbaglia prima però Mkhitaryan Di cercare di fargli un sombrero a Ranocchia Che è molto più alto di lui E non riesce a passare E da lì nasce dopo il gol del Monza del 2-2 Prestazione dal mio punto di vista buona Da parte di tutti i ragazzi Di tutti dell'Inter Loro hanno giocato sicuramente molto molto bene Ma come al solito sicuramente sarà la partita migliore Che faranno in tutto l'anno Perché è così ragazzi Perché quando si gioca contro l'Inter Quando si gioca contro grandi squadre Tutti vogliono giocare bene E quindi tutte le squadre devi prepararti E stare attenti a studiarle bene le partite E ripeto io non ho niente da ricriminare questa squadra So che ci sono altri trofei da giocare C'è da combattere comunque lo Scudetto C'è da giocare la Champions La Coppa Italia Una Supercoppa Una finale Supercoppa contro il Milan E quindi bisogna continuare Bisogna continuare Ripeto è un pareggio che sta da sconfitta per noi Perché siamo l'Inter Perché vogliamo vincere sempre Perché siamo tifosi che ci hanno abituato a vincere Ma anche a soffrire Quindi bisogna continuare così È un punto Sono due punti persi Potrebbero uno pensarlo Pensiamo al bicchiere mezzo pieno E pensiamo che un punto in più Un punto per la Champions Un punto per vincere lo Scudetto E un punto per continuare Ci sono tantissime partite ancora da giocare Tantissimo da fare Ricordiamoci che Non è partito oggi il nostro campionato È partito qualche mese fa A settembre Ad agosto scusatemi E che quindi È tutta una dinamica Una situazione che già la conoscevamo Già la conosciamo Ed è normale ragazzi Quindi bisogna soltanto continuare Pensare a Meno alla classifica Al gioco A vincere le partite E basta ragazzi Devo dire questo Io sinceramente L'ho visti abbastanza bene a tutti Peccato che Don Frisentrato Ha subito Ha fatto lui l'autogol Finale Bene tutti Da Darmian Barella che purtroppo è uscito infortunato Lo so c'ha la Noglu Quando sono usciti loro due Si è sfasciato purtroppo Gendrocampo Ma perché sono i nostri titolari Ed è normale da un punto di vista Bene Lautaro Lukaku ha provato Ad entrare in campo Ad affare il suo Giacomo molto bene Nel primo tempo anche lui Lavoro sporco Onana Poteva secondo me Forse magari fare quel cosino In uno dei due gol Però ragazzi Skriniar Il nostro muro A Cervi bene Gose Si è entrato come è potuto Sempre fa il suo lavoro Quando lui entra Niente ragazzi Dispiace Ripeto Dispiace Però siamo l'Inter Testa alta Riprendiamoci Come sempre Vi invito a lasciarmi un commento Un like Condividere con gli amici Attivare la campanellina Lasciatemi un vostro pensiero Ditemi cosa ne pensate Viva il football Sempre Papà Crack Forza Inter Molto deluso Amareggiato Passerà Ma subito Testa che tra poco Ci sarà un'altra partita Molto importante Viva il football Sempre crack Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao